Sfuma il sogno playoff per il Gela, ieri sul neutro dedicata alla formazione bianca-azzurra, non è andata oltre il pareggio 0-0 con la cittanovese e ha detto definitivamente addio agli spareggi promozione. Parallelamente al risultato ottenuto da Gallone e Soci è giunto il successo del Ligia Virtus a Palazzolo che è chiuso di fatto ogni discorso a due giornate dalla conclusione del campionato, infatti i punti che separano le due squadre sono sette. La matematica non offre più alcuna speranza. Chi invece esulta è la cittanovese che grazie al pari di ieri ha raggiunto la matematica salvezza. La partita di ieri ha visto i calabri portarsi in avanti subito dopo il fischio d'inizio, la conclusione all'ambito il palo. Ma da quel momento in poi è stato il Gela a fare la partita. Prima con Marinali il suo tiro è terminato fuori, poi con Cosenza. Ci ha provato pure Buonanno, tiro altissimo, identico cliché anche per Gallone. Un assedio vero e proprio continuato anche nella ripresa. Un tiro al bersaglio contro la porta della cittanovese. Il gol il Gela lo aveva pure segnato con Cuomo, ma l'arbitro ha annullato per un sospetto fallo in area di rigore del centrocampista gelese. Nonostante tutto i biancazzurri hanno tentato fino all'ultimo di vincerla la partita, ma non ci sono riusciti. Alla fine il risultato non è cambiato. Adesso c'è da onorare la maglia fino alla conclusione della stagione. Non c'è più alcun obiettivo da inseguire. I giochi, come dicevamo, sono oramai fatti. Purtroppo sarà per la prossima l'importante e non ricadere sugli errori commessi quest'anno. Sono orgoglioso di questi ragazzi perché anche oggi hanno dimostrato di onorare la maglia, di mettere in campo tanta passione, tanta organizzazione, tanti sacrifici che fanno durante la settimana. Oggi devo dire che sono veramente orgoglioso di questi giocatori. Il primo tempo siamo partiti bene, avevo chiesto un approccio diverso rispetto alla domenica scorsa con il Portici. Abbiamo fatto benino i primi 20 minuti e poi ci siamo un pochettino in testa ardita a giocare questa palla lunga, cosa che non dovevamo fare visto le caratteristiche dei difensori centrali e avversari. Poi è chiaro che abbiamo incontrato una squadra che ha pensato soltanto a non prenderle. Si è chiusa in difesa cercando di portare a casa il risultato di pareggio e poi alla fine grazie anche a un po' di fortuna ci è riuscito. In Brasile sapevo che non avrebbe finito la partita, però è chiaro che puntando su una difesa un pochettino più esperta dovevo mettere per forza due cose un 99 nell'ultima linea d'attacco. Poi abbiamo giocatori che hanno tirato la carretta tutto il campionato, Bonanno ha fatto tutte le partite, scusa quella della Pibonese, un giocatore che qualitativamente ci dà tanto. Ho tentato fino alla fine vedere se succedeva qualcosa con Bonanno, poi ho visto che non ne aveva più, ho pensato di inserire un ragazzino che magari aveva più benzina nelle gambe, però siamo stati, di ripeto, sfortunati perché fino alla fine abbiamo tentato di vincere la partita.